I nuovi mezzi sono stati acquistati grazie a un finanziamento del 2017 cofinanziato dalla Regione Sicilia che vede un impegno economico di un milione di euro a carico dell'ATM e quattro a carico della Regione. Domani saranno in città i tecnici della merca. L'azienda che ha vinto la gara di appalto per la fornitura dei bus che provvederanno a istruire il personale dell'ATM sulle caratteristiche tecniche dei mezzi e subito dopo l'avvio delle pratiche per il collaudo. I nuovi bus potranno già essere in circolazione dal prossimo mese di aprile. Al momento sono sette, a luglio ne avremo altri due e poi mi auguro che per fine anno ne arriveranno ulteriori quattro e rimanenti 16 nel 2020. Quindi in totale nell'arco di un anno, da qua a fine 2020 avremo nuovi 25 mezzi che girano per la città. Questo devo dire grazie alla partecipazione di ATM ai finanziamenti promossi dalla Regione Sicilia e noi investiremo circa un milione di euro e il finanziamento complessivo è di 5 milioni di euro. Quali sono le caratteristiche di queste nuove autovetture? Abbiamo comprato, o meglio, la gara è stata vinta da Mercedes, abbiamo puntato molto sulla qualità del mezzo i mezzi sono dotati di tutta una serie di caratteristiche tecniche innovative iniziando dal contapasseggeri quindi a fine giornata sapremo quante persone utilizzeranno il mezzo abbiamo le telecamere per la sicurezza, il computer di bordo e tutta una serie di novità tecnologiche che ovviamente per noi rappresentano un passo in avanti rispetto ai mezzi che fino ad oggi stiamo utilizzando.